Salve amici appassionati di Football Manager, qui con me come sempre c'è il Mike 94 e il Football Manager Italia Siamo qui di nuovo al Football Manager 2020 con il nostro mitico Spezia e oggi andremo a vedere assolutamente le partite con Napoli-Fiorentina E poi non so se vi mostrerò sia Bologna che Brescia o una delle due vele salto, insomma vedremo E in più cercheremo anche di capire se sarò in grado di riuscire a mandare via in prestito il buon Arezzo Contro il Napoli in Coppa Italia giochiamo come sempre con la titolarissima, sperando che possano fare bene così come hanno fatto con l'Atalanta Il primo tempo è stato abbastanza noioso, non ci sono state azioni veramente importanti, infatti siamo già al quarantesimo con Albornoz Che si pone sulla fascia sinistra, c'è Alvarez, Bautista e fa il primo gol della partita Siamo al quarantesimo, uno spezzo in vantaggio con Bautista che è veramente un mostro nel capitalizzare e nel finalizzare Siamo al settantaseesimo, partita ripeto un po' noiosa e un po' pesante, niente di eclatante È arrivato il gol nel primo tempo grazie a Bautista Siamo al settantaseesimo con Politano, qui c'è un fallo anche abbastanza stupido del nostro, insomma del nostro Albornoz Però si vedeva che era abbastanza fuori aria e Manolas però stava comunque finalizzando l'azione Ma per fortuna c'è la parata di Woodman, ancora a calcio di punizione c'è Politano che all'ottantaduesimo Non sbaglia, diciamo era una posizione veramente ravvicinata e quindi ci ha purgato Siamo al primo tempo supplementare e arriva il gol del 2-1 di Luperto Da calcio di punizione, Politano insomma si sta sentendo come il nuovo Pedrigno E infatti ha fatto un gol e assist da calcio piazzato, come si è permesso E quindi siamo sul 2-1 per il Napoli, veramente è un peccato perché fino all'ottantesimo stavamo noi in vantaggio Poi è arrivato il gol insomma del pareggio e adesso anche il gol nei tempi supplementari Siamo adesso al 95esimo con il Napoli che mantiene il possesso del pallone C'è Insigne sulla sinistra che si accentra, vediamo se ci fa il gol al giro o no Per fortuna tira una sassata e il pallone va praticamente nello stadio qui vicino C'è Allan, anche se vicino al San Paolo non c'è un altro stadio Ma vabbè i dettagli C'è Di Lorenzo, c'è Politano, Di Lorenzo, Allan si accentra Arriva il gol del 3-1 e anche l'ultima azione della partita Infatti poi non ce ne saranno altre E niente abbiamo perso 3-1 Veramente un peccato considerando che siamo andati in vantaggio E per quasi tutta la partita abbiamo controllato insomma il gioco O meglio ci siamo difesi come se non ci fosse un domani Però insomma poi è arrivato il gol di Politano e i due gol del Napoli Che ci hanno buttato fuori dalla Coppa Italia Ovviamente ci sta, il Napoli è una grandissima squadra Contro la Fiorentina confermata di nuovo la titolarissima Fiducia ai ragazzi, fiducia a questi gioinastri Che devono subito riprendersi dopo la brutta sconfitta contro il Napoli La Fiorentina sta facendo decisamente meglio rispetto all'Atalanta Infatti sono ottavi in classifica E quindi stanno giocando un buon calcio sicuramente Ma noi siamo più forti Quindi dobbiamo assolutamente rialzarci subito Dopo appunto l'esclusione dalla Coppa Italia E per quanto riguarda Bologna e Brescia ragazzi Penso che tendenzialmente vi farò vedere Soramente i gol se ce ne saranno Ehm... Perché se no poi effettivamente anche per partita un po' più così Ehm... Faccio un video abnorme Poi per di più è anche estate Quindi non so in quanti riusciranno a vedere un video molto lungo Comunque c'è Pollirola che stava segnando Ma per fortuna c'è il nostro Woodman che Ehm... Non ci fa segnare Che mantiene la porta inviolata C'è Cecchini sulla destra C'è Cecchini ma viene fermato da Benassi Siamo al 27esimo Azione praticamente inutile C'è Woodman che la spara in avanti per Alvarez C'è Cecchini A Jean Pong A Jean Pong che vorrei ragazzi fortemente riscattare C'è Cecchini Ancora Brian Gill sulla sinistra Viene fermato da Pollirola C'è ancora Albornoz indietro per il buon Pietrigno E c'è Cecchini che diciamo si presenta al meglio Ai tifosi dello Spezia con un gol veramente bellissimo E quindi bene insomma si dimostra sicuramente un buon acquisto Qui la Fiorentina stava subito cercando il pareggio O meglio quasi subito Siamo al cinquantesimo Ma Woodman per fortuna blocca la sfera Attacca ancora la Fiorentina a Pollirola Ma viene fermato da Gill C'è adesso Albornoz Con la rimessa al Coralbornoz La passo indietro al buon Gomez C'è A Jean Pong In una delle sue classiche azioni Sulla destra Piede destro Tiro Molto spesso segna In questo caso e anche nella partita precedente Purtroppo non l'ha fatto Però insomma Ci sta, ci sta C'è adesso la Fiorentina con Chiesa Viene fermato da Magnani Che rischia grosso Anche perché era l'ultimo uomo Ma l'arbitro non fa nulla C'è Pulgar E c'è Woodman Che oggi veramente si Dimostra Un grande portiere O meglio Oggi in forma Sbagliante Ha fatto Parate veramente importanti Fra cui insomma anche Questo rigore Che avrebbe regalato La Fiorentina il pareggio Siamo all'ottantatresimo E in questo caso Il rigore Va a noi Insomma Penso Pedrinho Come sempre Assist meraviglioso Ma in questo caso I difensori della Fiorentina Sono stati abbastanza Violenti Vedremo Vediamo un attimo Che cosa dice l'arbitro Sì Calcio di rigore Calcio di rigore Va a battere il buon Pedrinho Che ripeto Uno specialista Ed infatti 2 a 0 All'ottantacinquesimo Gol di Pedrinho Siamo al 92esimo Cioè Woodman Cioè Johnny Ne è entrata O Johnny Diciamo sta trovando Un po' meno spazio Da quando Diciamo Ho voluto dare La titolarità Brian Gill Anche Gill Sarebbe interessante Da riscattare Anche se Non costa poco E ancora Pedrinho Siamo al 92esimo In questo caso Igor La spazza fuori Ma Tendenzialmente Ragazzi Ovviamente Potete capire Che la partita Finisce così Con questo Sussulto Dello Spezia E poi Nient'altro E quindi niente Abbiamo vinto 2 a 0 Gol bellissimo Di Cecchini Grazie anche a Woodman Sicuramente uno dei Migliori in campo E poi anche Pedrinho Gol e assist Per lui Tanta tanta roba Come detto Con il Bologna E con il Brescia Vi faccio vedere Direttamente Solamente I gol Il Bologna È comunque Un'ottima squadra Un'ottimo portiere Anche un giocatore Che avrei voluto Allo Spezia Barreca Lo stavo visionando Poi vabbè C'è anche Orsolini E lo stavo visionando Barreca è comunque Un elemento valido Però sicuramente Per il futuro C'è di meglio Noi confermata La squadra titolare Anche perché Voglio mantenere Un trend positivo Voglio continuare a vincere La squadra A parte Per la sconfitta Con il Napoli Sta convincendo Infatti Arriva a 45esimo Il gol di Brian Gill Grazie all'assist Di Alvarez La risposta del Bologna Arriva al 70esimo Con Un ottimo Assist Di Orsolini Per Olsen Sempre però Al 70esimo Subito dopo La risposta Dello Spezia Infatti C'è Ajampong Con un assist Bellissimo Per Bautista Siamo sul 2 a 1 Ma poi il Bologna Segna il gol Del pareggio Al 92esimo Attaccaterò Subito dopo Lo Spezia Con Vignali E arriva il gol Di Alvarez Che chiude Al 95esimo La partita È stato veramente Un match folle Che abbiamo visto In tipo 30 secondi E Però nulla Insomma Abbiamo vinto 3 a 2 La cosa assurda Appunto Gol di Calabresi Al 92esimo E gol di Alvarez Al 95esimo Se fossi stato L'allenatore Del Bologna Mi sarei Incazzato E non poco Però insomma Per una volta I gol Ai tempi Dello scadere Ci vanno bene Infatti Quando segnalo Calabresi Mi sono incazzato Come una belva Poi per fortuna Arrivato Il gol Della vittoria Di Julian Alvarez Con il Brescia Di nuovo L'11 titolare E Volevo dare Una mazzata finale Al mese Di gennaio E Loro giocano Invece con un 4-3-3 Con Balotelli Donnarumma E Torregrossa Lì davanti Come per la partita Con il Bologna Andiamo a vedere Direttamente I gol Penso che faremo Così ragazzi Per le partite Che tendenzialmente Vi salterei Comunque Siamo al decimo minuto Sassata Fa quello che sa fare Poi arriva Al 48esimo Il pareggio Del Brescia Ma siamo Al 76esimo C'è Pedrinho Che la passa Brian Gill Che praticamente Si scarta Mezza difesa E fa il gol Del 3-2 Certo Ragazzi E' bello vedere I gol Giusto per non Sattarvi in toto Le partite Però io così Muoio Comunque abbiamo vinto 3-2 Il Brescia Ha giocato Un'ottima partita Però insomma Siamo stati molto bravi Lì davanti Si conclude così Il mese di gennaio Vi faccio vedere La classifica Adesso siamo Secondi A 50 punti A meno 4 Dal Napoli Ma a meno 6 Comunque da Lazio Milan A meno 8 Dalla Juve Insomma Un campionato Apertissimo Diciamo che Dopo la sconfitta Con il Napoli Abbiamo fatto Veramente bene Siamo stati bravissimi A reagire E ovviamente Sono molto molto contento Dei ragazzi Ci aspetto un febbraio Vorrei dire Ragazzi Relativamente facile Perché comunque Lecce Juve Stabia Sono alla nostra portata Il Parma Sta facendo un ottimo Campionato La Lazio invece Un'ottima squadra Quindi direi che Il febbraio Partiamo in discesa Per poi Salire Ovviamente Non dobbiamo Sottovalutare Nessuno Per quanto riguarda Mattia Sareso Ragazzi Sono riuscito A mandarlo in prestito Solamente Il primo di febbraio Perché come immaginavo Insomma Non volevo andare via Essendo appena arrivato Quindi che cosa Ho dovuto fare L'ho diciamo Messo in under 20 Gli ho detto Che non era pronto Per la prima squadra Lui è diventato scontento Si è incazzato Poi l'ho messo Sul mercato Insomma Mercato prestiti E quindi Poi sono riuscito A mandarlo via E' andato in Uruguay Al National Che praticamente Ci paga per 6 mesi Quasi quanto noi L'abbiamo pagato Per averlo A titolo definitivo Speriamo che lo facciano giocare Lo voleva anche il Cagliari Però Il National Diciamo L'aveva L'aveva proposto Un ruolo da stella Mentre invece C'è il Cagliari Elemento della Rosa Quindi Per quanto mi avrebbe Fatto piacere Farlo giocare Qui in Italia Penso che sia più giusto Rimandarlo in Uruguay E farlo giocare Ancora titolare Perché ne ha Assolutamente bisogno Per crescere E quindi niente Ragazzi Ripeto Nel prossimo episodio Andremo a vedere Il mese di febbraio Non so se vi salterò Qualche partita O meglio Una partita Oppure farò come Bologna e Brescia Se mai Lecce Juve Stabia Ve le faccio vedere In mega sintesi Solamente i gol Vedremo E comunque Il mercato è finito Come potete ben capire Non ci sono grosse novità Però la squadra Da come si può vedere Gira benissimo Anche così Detto questo ragazzi Spero il video vi sia piaciuto Come sempre Un saluto da me Mike 94 E da Football Manager Italia Ciao ragazzi